nuovo video del lego speed building benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video perché nuovissimo video perché oggi andremo ad aprire uno delle nuove collezioni della lego sempre marvel come i video passati questa volta del lego speed vedremo un video lego speed building su rocket recon ragazzi nuova collezione lego marvel come potete vedere non so se se vede bene si questo è rocket recon con l'armatura mecca 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 non lo so con l'armatura come avete visto anche altri video se non li avete visti lo metto qua sopra da qualche parte qua sopra così in descrizione tutti gli altri lego speed building che ho fatto della marvel andateli a vedere ma prima di iniziare a montare sto sto robo raga iscrivetevi al canale attivate la campanella mettete like commentate tutte le cose che dovete fare sempre quindi daie 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 andiamo subito a montare questo nuovissimo lego di rocket recon ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.